Attraversamenti a raso, semafori a chiamata che non funzionano e sbocchi in incroci pericolosi. Più che una pista ciclabile per il Movimento 5 Stelle di Fano, la pista ciclopedonale Fano-Fenile presenta diversi punti di elevata pericolosità. Il sindaco ormai è dal 2015 che dice che questa pista sarà terminata a Pasqua, però probabilmente non ha detto l'anno di preciso di quale Pasqua sta parlando. In effetti ha detto che ci saranno 90.000 euro stanziati da parte del Comune nel 2017 per completare il pezzo qui sul ponte, che comunque già potrebbe dare sicuramente un bel aiuto. Però tutte le criticità permangono. Velocità elevata delle auto in questo punto, costituito per lo più da rettilinei e fondo stradale fatto di breccino, non rendono per nulla confortevole la marcia su questo tratto di ciclovia. Anzi, a ben vedere o percorrendola proprio in bicicletta da Via Trave fino al Fenile, si colgono almeno tre criticità molto pericolose. Partendo quindi dalla frazione di Fano, si arriva subito alla prima delle criticità, il cavalcavia dell'autostrada. Qui ad esempio dobbiamo fermarci e dover attraversare per andare sul ponte che scavalca l'autostrada in un punto pericolosissimo in piena curva, senza strisce pedonali e quindi a discapito proprio della propria incolumità. Una volta superato, bisogna nuovamente attraversare la strada per riprendere la pista. E di sera, e con le macchine anche che vengono giù a una velocità abbastanza sostenuta, non è l'operazione più sicura al mondo. Altro pezzetto, altra difficoltà, altra interruzione e altro attraversamento. Qui viene in aiuto un semaforo a chiamata, se funzionasse, ma chiama chiama, non risponde nessuno. Anche questo ormai presente da alcuni mesi, ma del tutto inattivo, cioè se uno pigia il pulsante, praticamente il semaforo rimane sempre lampeggiante e non permette appunto l'attraversamento. Anche l'impo rischio e pericolo della propria incolumità. E dulcis in fundo, alla fine arriva il bello. Si viene praticamente sparati dentro un incrocio pericolosissimo tra via Trave e via della Fornace, uno degli incroci più pericolosi in assoluto nella nostra città, secondo anche l'esperienza personale. E quindi sia per andare verso Fano che poi anche da Fano, per prendere questa pista ciclabile, dobbiamo attraversare praticamente in diagonale un incrocio in modo del tutto inappropriato e altamente pericoloso. Chiediamo a questa amministrazione di occuparsi dei reali problemi dei cittadini di Fano, compreso questo, che sembrano piccole questioni, ma sono questioni invece rilevanti, che riguardano la sicurezza, una mobilità che sia sostenibile. E se parliamo tanto di Fano città dei bambini, facciamo in modo che lo diventi veramente, non restino solo parole vuote. Grazie. Grazie. Grazie.